Ciao a tutti ragazzi, sono TJson e qui oggi c'è di nuovo con me, Ulang. Ulang, salve. Stiamo per affrontare un'arena, sempre con l'account di Ulang. Vediamo come va. Sperando sia positiva. Guardando i tre eroi, c'è Malfurion che direi... Sì, io direi di scegliere Malfurion. Devo pure feggiare la nasana. È veramente una bestia. Qual è la tua classifica in arena degli eroi? Degli eroi e sicuramente Malfurion con Malfurion ho ottenuto il mio risultato migliore. Non ho, purtroppo non ho mai superato gli otto. Però... Perché sei scarso. Però... Allora, che cosa scegliamo? Allora... Eh, direi la prima. Decisamente. Nutrizione. Eh, sì, cazzo. Nutrizione. Andiamo per nutrizione. Eh, o l'arpia. Sì, infatti, è un po' forte in arena. Ricordate, l'arpia è devastante. Che cazzo sta a fare lo scienziato pazzo? Lo scopo. Non lo metto. Spazzata. Vedete tutti di cosa sono capaci. Seconda spazzata. Proprio bassa, però. Terza spazzata. Attenzione. Vabbè, sì, dai, ci sto. Tre ci sta. Fidati. No, ma quattro non è mettere. Che è qua il peschino, oppure l'arpetto. Il mio record lo feci proprio con quattro spazzate. Che facciamo? Ok. Cazzo, non abbiamo mostri, però. Per mostri, che mancano un sacco di carte. È dura. Ok. Vediamo la maga. La maestra. Ma non abbiamo ancora massimo nostri piccoli. È un tu, vero. Un detrap, spero che. Argus, oppure il lanciatore di coltelli. Meglio il lanciatore. Ok, abbiamo già un botto di carte. A4, ecco, che ti viene andato. Eh, infatti. Non mi mette. L'altro? Non, sì. Oh, logra. Subito. Pottissimo. Spetta fango? Sì. Pottissimo. Mmm. Attenzione. Sei sicuro? Sì, sì. Easy. Oh, il Trent. Fantastico. No, io mi lascio i ragni infestati. Mi dice di no. Guarda che sta. Oh, ma le carte piccole non abbiamo messo. Non arriveranno. Questo è il druido. Vero che abbiamo saltato già un'innervazione. Metti il marchio, metti. Che se lo combiamo con quello che hai messo. No, ma il marchio... Quando ti trovi è una carta. Eh, lo so, però. Ma quante cazze di provocazioni sto... Vabbè, vai. No, 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 no. Vabbè, facciamo il pro. No. No, no, no. Wisp. No, non fare stronzate. Fuocofoto di merda, no. E io andrei col Wisp. Oh, ma tu sei pazzo! Attenzione. Proprio perché è in live. Solo per chiusare. Tu sei un pazzo. Giovani Vestale. Oh, se la pompiamo con la Giovani Vestale al primo turno... Tu pensi al primo turno... Primo turno Fuocofoto di Giovani Vestale? Fuocofoto arriva alle 50 di vita. Spade danzanti. Oh, perché spade danzanti? Perché, a parte che non abbiamo... Cavalcalupi? Aia, che schifo. Altro... Altro... Avventuriero? Sì, un altro avventuriero. L'altro traente? Certo. Io direi ho il 2,5 o il piccoletto. Metti il piccoletto, sì, perché abbiamo troppi mostri da 4. Oh mio Dio. Ok, nemmeno una epica, nemmeno una leggendaria. Speriamo bene e cominciamo. Nostra arena con Malfurion. Malfurion, grande tempesta. Il mitico Malfurion. La natura si oppurrà a te. Speriamo almeno di riguadagnare... Il prezzo... Che abbiamo speso. Sì. Beh, alla fine è il 7 vittorio. Sì, il 7 vittorio è una bella leggendaria dorata. Che pare è una bella leggendaria dorata nella Bustica. Che per me sarebbe la terza. Ma vogliamo dire quanti leggendari hai trovato? Che parecchie. La caccia abbia inizio. Fili, il meno dove ti cinto. Attenzione. Mano, veramente pessima. Pessima, non abbiamo mostri piccoli. No, tieniti, sì. Cacciatore, non ha rimozione. Cacciatore. Hai ragione, non ha un cazzo. E tu ci devi anche pensare. Eh, infatti non l'avevo ancora visto, di cazzo, vero. Ecco, ma hanno lo stesso di merda. Ma perché i piccoletti sono pochissimi? Comunque abbiamo il coin. Ci conviene conservarci la coin per... Ah, eccolo il piccoletto. Metti? No, passi, metti, passi, metti, passi. Io direi di mettere, così serve a qualcuno. Siamo pure la magia, dunque. Capace che peschiamo pure. Sei d'accordo? Agro, d'accordo. Vedo che sei d'accordo. Il mouse ce l'ha in mano Marco. È il suo account. Quindi ce l'ho. Uleng. Uleng, scusate. Vabbè, ti ho chiamato Marco pure nell'altro video, dai. Non fa niente, mi copia. Eccolo qua, che ti avevo detto? Oh, yeah. Eh, è tempo di uscire. Fortissimo. Oddio, ma sai che non l'avevo visto che avevamo avuto il ruido dell'unghia? Sì, nemmeno l'ho commentato perché non aveva senso. Troppo forte. Eh, infine, era scontato. Cioè, scontatissimo. Cioè, senza vedere gli altri ho detto questo. Non ho giocato niente, ho fatto il potere basso. Sì, è anche così per noi. Beh, l'abbiamo fatto anche noi alla fine, quindi siamo... Solo che noi ci diamo anche un'armatura. Poi abbiamo un bel nano ferroscudo. Penso di giocare... Eccolo. Nemmeno a dirlo. Ahia. Nemmeno a dirlo, però... Giochiamo lo stesso. Il nano. E che vuoi fare? E quello sarebbe un'armatura! Eh, vado a tirare, vado a tirare, per forza. Dai, poi l'ho uscito con spazzola. Perché se no me ammazza il nano. Non avrebbe senso, poi. Infatti. Non avrebbe assolutamente senso. No, no, no. Perché... Peccato. Vediamo che non ha tiro mortale, ma... Ho un altro mostro da uccidere. Sì, un mostro... Possibilmente uno di... Eccolo là. Ahia, per mo... Non va bene. Eccolo là. Però abbiamo lui in mano. Fado vedere. Abbiamo lui in mano. Un bel counter. Un bel counter, però. Ce ne buttiamo lo stesso. Giochere di provocazione, attacchere con questo. Eh, sì, tanto poi non te l'ammazzo. Sì. Sono d'accordo. O no. Cosa fare? Sì, dai. Siamo, 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 invece. Due cristalli di mano. Ho tre carte. Spazzata. Rimanebbe questo. Con cinque. Lo attaccherei il prossimo turno. Non fai un cazzo. Perché se te lo giochi hai... Quattro mana e non giochi niente. Esatto. Dove vi è proprio... Provocazione. Tanto so che ha... Il marchio del cacciatore in mano. Uccidio. Lo so. Lo so. Però non fa niente. Va, non è che... Potrebbe anche non essere riuscito. Eh, tiro mortale. Io la avevo già torciato qua. Tiro mortale. Tiro mortale. Dobbiamo purificare il pozzo solare. Buttana, miseria. Questa ha fatto male. Buttana, no, miseria. Non abbiamo più modo di uscire con il filo di vita. Eh, dobbiamo... Col tren. Dobbiamo mettere a liberare. Cioè. Dai cazzo. Abbiamo costruito un buon deck. La verità è il mio scudo. Passami quella chiave ad arco. Forse è... Più mostricciotto. Ah beh, ma almeno nei prossimi... Cioè nei turni alti avremo un vantaggio. Perché ci resistiamo? Sì, dai, sì. Intanto c'è il 30 dopo. Sì, sì. Ci starà bestemmiando. Sì, di blu. Ma perché abbiamo solo blocazioni? Dai. Poveretto. Mi dispiace. Mi dispiace. Questi tizi che mi fanno queste proposte sono in live. Sono in live con tuo cugino. Mi hai fatto una bella figura. Oh, che cazzo è successo là? Ora vediamo. Ah, si è schiantato quello. Poi è attaccato direttamente. Ha evocato il drago. E poi il peschino. Poi il peschino e poi il drago. Ma cosa fare? E mo' è il 30. Andiamo a rivedere. Ah, ha fatto quello che ha fatto. Ha schiantato e poi ha attaccato. Abbiamo due spazzate. Possiamo giocare tutte e due. Possiamo giuderli. Non mi pensare. Ma ho peccato che lui ha 6 di vita. Se aveva 5. Era proprio al bacio. Hai presente Marco? Mamma mia. Se aveva 5. Vabbè, metti il Trent. Tanto non penso che abbia l'altro tiro. Se no, lo sava già prima. Fammi pensare. Il tiro a scrivere. E' scemo. Pessima figura. Infatti. Pessima, pessima figura. Marco non aspetta nessuno. Dai, vai di Trent. Vai di Trent. Non c'è niente in mano. Ma che non la pe... Guarda, ora pesca il tiro. Guarda. T'è una misera. No, si pesca il marchio. Dai, non è niente. Schiantati, schiantati. Pesca il marchio. No, ora si schianta tutto. Guarda che merda. Ora si schianta tutto. Ah, vabbè, si tiene un mostro. Cazzate. Però si toglie questo figlio di... Guarda, ora può spazzare il dito. Eccolo là. L'alto crimine. Ahia. Sta andando molto male. Che oddio. Si, sta andando male, Marco. Questa... Senza pensarci due volte. Ok, sono d'accordissimo, Marco. Proprio d'accordo. Purtroppo... Dovevo limitarci. Forse... Abbiamo sbagliato... Nell'impostazione. Dovevo prendere più mostriciattoli, però... Te l'avevo detto. Alla fine è troppo allettante. Ehi, sono scusato che i mostri quelli si fanno. Oh, è l'ottante, è l'ottante. Oh, comunque... E noi siamo spazzata. Ma c'è la Iena lì. Sto pensando di... Ma lì c'è la Iena. Non avevi visto la Iena? Abbiamo un fuciliere nano. Ok, allora... Eh sì, uscite le fuciliere. Ecco che fai, uscite le fuciliere. Sai cosa potresti fare? Qua gli usciranno le due Ienette. Sì. È quello che stavo dicendo. Ma questa si potenzia. No, non è si potenzia, muore. Si potenzia. Muore. La smetti. Muore. Ora. Però se... Se mi... Se ti schiantavi, sì. Infatti non ti dovevi schiantare. Mazzarì, sì. Ok, dai. Noi abbiamo 5 belle carte in mano e pescheremo altre carte il turno dopo, probabilmente. Lui... Boh. 13, 18. Non stiamo benissimo. Eh, ma dai. Ma che cazzo, eh. Non bestemmiamo. Eh, ma che cavolo. Ah, eh, vabbè. Olè, addio. Olì. Niente. Cos'è che ci può salvare che abbiamo? Ah! Tu, mi hai detto te. Eh, però il cazzo che si potenzia è questo figlio di... Buona mamma. No, Marco, no. Ah, ma ci sono due mostri. Quello si pompa. Ah, no, ne ma ci troverai perché ho uscito il potere. Però poi rimaniamo con 5 di... No, con 6 di vita. Eh, no, Marco, ma non possiamo più ammazzarle di tutti. Oh. 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 Oh, siamo calmi. Allora, abbiamo 7 mana. Possiamo usare questi due. Allora... Puoi ammazzare tutti. No. Rimangono le due. Rimangono le iene. Eh, ma qui rimaniamo con 1 di vita, Marco. Eh, abbiamo perso. Anche se non ha niente in mano. Abbiamo perso. Che siamo fatti male? Niente, la prima partita è andata. Male. Perché non abbiamo mostri i fattoli e non ci dobbiamo accampare fino a fare il nostro gioco. Non abbiamo nessuna curazione. Cioè, cura, curamento. Come cazzo io? Bella giocata. Non proprio quello che vuole. Non proprio quello che vuole. Che hai fatto? Ti sei reso? Sì, mi sono scantato. E niente, la prima è andata male. Spera, rivediamo. Ma perché non abbiamo giocato il fuoco a foto? Eh, io non sono convinto. Il fuoco a foto. Una giovane quest'ora. Eppure il mostriciattolo ce l'abbiamo, eh. E che abbiamo comunque pescato merdaccia all'inizio. Ho cambiato tutta la mano all'inizio. Eh, però abbiamo... Due trenti. Due ogre. Due, quattro, cinque, sei, sette. Sette carte che superano in sei mana. Sottante, oh, sottante. Troppe le carte da cinque. Ma le carte da cinque ci possono stare. Se ne hai due in mano, nei giochi due del decimo turno in poi. Le carte da sei sono il problema. Però vedi, non è che dici che non ne abbiamo. Eh, che non ne abbiamo pescati. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci carte. Non ne abbiamo pescati. Dai, adesso andrà meglio. Piccolo inconveniente. Si è impallato. Ho modificato i settaggi di risoluzione. Non regge. Ma, purtroppo, non ho un computer molto potente. Quindi, succede. Anduin. Anduin. Come la vedi? Che ne sa? In arena non si sa mai nulla. Fantastico, possiamo compare avventure e rinnovazione. Oh, possiamo compare avventure e rinnovazione. Che stai facendo? Eh, io lascerai così. Ah, no, io lascerai così. Lucano. Dobbiamo partire il meglio possibile, ecco. Spade danzanti. Vuoi mettere il primo turno? Si, certo. Controllo di lui. Certo. E' tipo uno... Uno... Uno Ieti. Primo turno. Ho giocato molto forte. Spero ando vada meglio. Non ho abbastanza mana. Non ho abbastanza mana. Cinque danni. Non ho bellissimo. Oh, bellissimo. Secondo turno, potere... Lui, lui non ha fatto nulla. Dai, curati e passa. Dai, fai il bravo ragazzo. Magari fa... Magari. Prossimo turno. Prossimo turno. Cavalcalupi. Attenzione. Prossimo turno. Cavalcalupi su Melma. Non penso. Come? Penso di... Lasciare. Cosa succede? No, penso di attaccargli... Ah, vuoi tenerti il Cavalcalupi? Sì. Eh, ma metti che c'ha... Eh, vabbè, sì che è arena. Eh, infatti, dovrebbe avere... Metti che ha un cento tira al bersaglio in mano. Eh, ha rotto il cazzo. Ho già rotto il cazzo. No, come si chiama? Tira spursiva? No, punizione sac. Punizione sac. Metti che c'ha tre punizioni saci in mezzo qua. Per stimare. Ecco io. Che so forte. Ti sei che riparo la macchia. Pronto a cavalcare. Assalza il mio cazzo. Assalza il mio cazzo. Tra posto. Assalza il mio cazzo. Mister Smoke. Non so che andrà presto in... Su YouTube. Ciao Mister Smoke. Non so che andrà presto in... Eccolo. Oh, ottimo. Ottimo. Oh, coin. Sicuro? Eh, no, non è sicuro. Non è sicuro. Non lo so. Non mi è piaciuto, però. No, bene meno. Attenzione. Lo stiamo devastando. Lo stiamo devastando. Lo stiamo devastando. Lo stiamo devastando. Siamo... Questa soffita sta andando. Ho detto perché... Partire col piede è giusto, eh... È una cosa importantissima. Non potrai farlo. In arena come... Come va? Speriamo una bella carta da 5. Questo Wargen? Dobbiamo farglielo fuori. Però per le cose che facciamo pescare. Non lo so. Potrei continuare a lasciare. Rasha, Rasha, sì, Rasha. 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 Ritoli 10, Rasha. Tanto che cazzo deve fare il Wargen? Abbiamo pure lui da giocare dopo. 10 cosa che ha la provocazione. Appunto, 10 li togli. Ah, no, è giusto, è un'arma. Non importa chi la dai. Sì, perché stai pensando il controllare. Ma non interessava chi la dà di comunque. E quello è il bello. Dai, ma che cazzo deve fare? Si schiante qui. Devi dire così, non sai che carte può avere. È vero, questo qua si la gioca. Ecco. Ecco. L'avrebbe giocato comunque. Anzi, ci ammazzava due mostri. Senta un beton tassi. E abbiamo attento solo da. Ci è andata bene. Ora giochiamo Logre. Aspettano. No, si ha... Ma è, gioca lei, gioca lei, sì. Perché si aveva... Anche se con loro... Non dirmi che è il Black Knight. Perché ti sputi in un occhio. No, il Black Knight in arena appena abbiamo evocato contro il sacerdote. La provocazione migliore. Eccolo, eccolo. No, non ne posso. La tua magia non ti salverà. No, no, no. Sennò... Sennò c'è... Ti stavo incazzando. Come una bella. Oh, se peschiamo spazzata abbiamo vinto. Due anani. Due anani ferroscudi... Eccolo, fuciliere enano abbiamo vinto. Carico è pronto a colpire. Dai. GG. Bella giocata. Per culo. Sì che abbiamo un bel po' di carte. Tre spazzate. E basta. Ehi, ferroscudi. Quanti ne abbiamo giocati? Due. No, hai ragione. No, due ferroscudi. No. E basta, sì. Vediamo. No, due ferroscudi. No, avevamo... Ah, avevamo anche il druido. Parecchia... Avevamo il druido. E basta. Erano... Sei... Cinque carte. Però in che epoca ci facevano vincere. Ne abbiamo pescata uno. Buono. Buono. Curo. Vabbè, avremmo vinto il turno dopo. Non è... Stava andando molto bene la partita. Qualcuno col piede è giusto. Fa la differenza. Imparate queste lezioni da Marco che sa giocare. Non dire così. Possiamo anche fare pessime figure in live. Sì, vabbè. Alla fine. Alla fine l'arena. Rimane un gioco. Poi l'arena è anche del tutto. Ma è anche del tutto suono. La luce porterà alla vittoria. Devo proteggere la... Le mani... Le mani che odio. Le mani brutte. Togliamo tutto perché abbiamo bisogno di roba decente. Oh, beh. Insomma. Due rimozioni. Eh. Le odio. Eh, guarda che se epoca la piccoletta... Adesso. È buono. Le cose. Speriamo che la evoca. La chierica. Uno, tre. Con la carta estrada. Ma però abbiamo lui. No, buono. Dai. Non c'è poi. Non c'è. Mettiti questa mela in testa. F-chuggle. Mettiti questa mela in testa. È vecchio. È così vecchio ma la vista li funziona ancora benissimo. Ma forse no, effettivamente lancio a caso. Sta pensando il nostro avversario. Oh, moneta. Ho una carta da tre. Non è che sia molto d'accordo su questa scelta. Eh, evochi il lupo e... Ti schianti. Oppure... Evochi il provi. Potrei sperare. Eh, ma... Eh, ma se poi non glielo ammazzi è... Pericoloso. È pericoloso. Non... Io direi di non rischiare. E poi averlo a quattro di vita. Ah, quattro d'attacco, scusate. Eh, ma che cazzo! Vabbè, dai, ora. Mi trollo. In gioco, in gioco ci trollo. Cerchiamo... Vediamo di non rischiare e... Ci va bene il rischio che però non l'abbiamo più fatto. Va bene lo stesso. Sì, sì. Due mostri. Board. Controllo. Stiamo controllando... Nel suo campo non c'è niente. Nel nostro... Nel nostro c'è qualcosa. Oh yeah. Lupetto. Ecco il cavalcalupi. Si schianterà. Quasi... Quasi... Sicuramente. Stiamo giocando spade danzanti. Probabilmente. Sì, ottimo. E anche la piccoletta. Ti serve un'acqua. Ok. Sì, ci serve un cavolo di benedizione. Daccela. Cosa, questa è andata a 5. Puttana la miseria. Ah, non è vero. Puttana che questo è un errore. No. Sì. Vabbè, dai. Alla fine non è così grave come errore. Però... Eh, sì. No, non ce l'ha, non ce l'ha. Vabbè, con una carta da 3 mi ammazzo un mostro e... E pesca pure. E pesca pure. È un mostro 4-4, tra l'altro. È una cosa brutta, però... Va bene così, va bene lo stesso. Beh, vediamo di schiantarci il lupo il prima possibile. Cos'è? Impulizione sacra. Fuoco interiore. Cosa? Davvero? Bella giocata. Bella giocata. Ma è scemo. Ho scherzo. Ha usato fuoco interiore e praticamente è andato a 1 di attacco. Come la difesa. Però il lupo gli dà 1 di attacco, quindi... C'è a 2-1. È una giocata un po'... Un po' a caso. L'avventuriero a caso? Io direi di usare il potere basta, no? Pure l'avventuriero. E lo potevi mettere qua, sconsa. Dopo aver attaccato. Hai ragione. Lo poteva mettere tra il lupo e la spada dopo aver attaccato. Se avrei... Avrei portato a 4-2 di... Vabbè. Abbiamo messo 2 avventurieri ma non abbiamo messo tante canti piccole. Sicuramente il deck è un po'... Cioè ci sono carte che non possiamo sfruttare come si deve. Però ci sta andando bene sta partita, pure quella di prima. Contro sacerdote va... Va. Buono. Guardiamo che... Guardiamo che... Andiamo per pomparci l'avventuriero. Oh. Ce lo stiamo per pompare. Sì. Io direi che... Easy. Posso assarci 2 volte. Non c'è niente da sperare. L'ha giocata più semplice della remona. Missione accettata. Missione accettata. Noi siamo partita. Diciamo dominata. Sì. Ma cavolo. Sesto turno... Stiamo... Devastando... Chi vuole Ancora board control E resa GG Andiamo per la terza Beh No, assemblatelo Beh, sei dicendo E niente, si è reso Ah, si è reso Ottimo Scusatemi, ho allontanato un attimo Contro Secondo me Vittoria o morte Devo proteggere la natura Secondo me si Ma non possiamo Ma se di sottofondo Sì Shazam è stronti Shazam Tutto? Che dici? Spazzatela abbiamo tre lampi anche a togliere L'avventuriero è lo giochi Io te l'hai proprio spazzata Me lo pensiamo in modo diverso Guardala Ecco Secondo avventuriero forse lo stesso Non lo so più in voi Infatti Bisogna vedere dove le carte finiscono in deck Te l'avevo detto Te l'avevo detto di lontanare L'aveva spazzata Eh vabbè Io te l'avevo detto Sperle tante cose Comunque ci stiamo Forse aspetteremo Oh, bello Bello, molto bello Mettiti questa mela in Iniziamo la partita come prima Attenzione Solo che lui ha due d'armatura Abbiamo Pericolosi Se adesso peschiamo l'unico mostro che abbiamo da uno Eh no Oppure al fuoco fa Oh, se li riusciamo a comprare tutte e due è la finita Dammi una missione Eh, sono d'accordo Sono d'accordo Ce l'otteniamo Sperando che non abbia Quella che ha due danni a due Facciamo E se ha quella che ha due danni a due servitori Fendente Ah, ma porca Ce le tiriamo Me le tiro io C'è proprio Diretto Oh, non ti voglio giuro Con una carta ci ha sbicuato Non fa niente Dopo abbiamo il ferro Speriamo che non metta una provocazione Che ci tolga vita al nostro avventuriero Perché io volevo farlo andare almeno A 5, 6 Ah, lo ammazza direttamente Ha fatto il cazzo Sì, infatti Sta Sta avendo Esatto Vabbè, se era l'arma Se era l'arma costo 2, 3, 2 di integrità E vabbè Pure il cantaguerra Eh, ma glielo dobbiamo far fuori o no? È pericoloso Ma il cazzo di cantaguerra Che cazzo di cantaguerra No, no, metti Ma cosa? No, no, metti E quella sarebbe un'arma Che cazzo stavo pensato? Questa carta non c'entra un cazzo nel reddestro Però Confrontare gli altri due Forse Eh, gli altri due facevano ancora più schifo Non so Non mi riferirà uno Oh, ci nascondono Oh, no Ah, cazzo Non c'è pure cazzo Sì, cazzo Cioè, sta facendo una combo con un deck da reddestro Comunque Penso Sì Ah, non c'è una mazza No, dai No, lo so Io avrei controllato Sì che fortunatamente Sta lasciando un reddestro molto bene Però non sapeva che noi abbiamo una bella carta in mano Madò che sfiga Rimane a uno di vita Un mostro Cioè, senti cosa Senza attaccare con il Cosa fare? E' spazzata Poi attacchi con il ferro E' il potere Il potere diretto Oh, no Dai, termina Devo venire questo Un po' a caso Però Oh, no Ringraziamo Ha sprecato due carte fortissime Per un mostro Non l'aveva fatto bene Cosa? Oh, yes Bellissimo 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 Mi è piaciuto molto questo ogre 23 vita Ha senso Ha sempre senso Però è meglio Io metterei sì Infatti Musa il potere Aprite i cancelli Aprite i cancelli E' un po' a caso Io spiaccicato Io spiaccicato Io spiaccicato Non ho fatto qualcosa Non ho fatto qualcosa Siamo a giocare Spazzata Nano Eh, potere Questa Ha due però Eh, si ammazzi al tizio No Ah, dici Vuoi Volevi che morisse Ok, dai Carico È pronta a colpire Ok Giocarei lei Sempre con la paura Della Brawl Però se gioca a Brawl E non muore lei Che schiume No, un po' Cristo canaro No Sarebbe una clip Di Tiffany E' il lucky moment Di Ayrton Ci penso No Brawl, please Ah, penso Ah, ma che cazzo No, ma ha avuto pure Oddio Ma ha avuto pure un culo assurdo Ma però ci ha fatto un culo Aspettando Aspettavo che ero ciasse Sì, sì Ah, beh, però ci ha fatto pescare Dai I due attacchi e carica Qua la io ce l'ho dorata Boom E mi sa che la più sui pitori Per quelli che sia Mi vanto di avere le carte basse dorate Aspetta Eh, sì Emo, e poi E poi Come farlo Ah, ok Oh, calmo Eh, io volevo 8 Eh, qua è per quello che ti dicevo Cioè, ci toglie 8 Però poi peschiamo Abbiamo 11 di vita Sì, sì, no, no, no No Va bene È una bella È una bella scelta Sì, dai Sì, ok, ok Vai, rush No, no, c'è un zero card Ma no No, stai di nuovo Io lo rush Sì, ma Eh, questo è difficile Eh, che lo butta giù Ma come avresti giocato? Avrei giocato uguale Solo che non avrei evocato lei Però alla fine La moneta non l'avremmo usata più Ah, no, questa non era la moneta Era la mele Sì, però Ok, sì Sì, non è la mia brutta Come giocato Io non l'avrei fatto, però Devi dare pressione Sì, lo so Il fatto è che non mi piace proprio Le spade non mi piacciono proprio come carte Quindi per quello stavo un po' Invece monte Passione Veramente fastidiosa Per tutto per chi ce l'ha No, mi pesca due carte Ok Ecco Devo dirlo La morte non mi spaventa Ah, grazie Ma che grazie? Sta per bella Per regalare un mostro Eh, non so, però Eh, potrebbe Sicuramente Capiterà un mostro di merda Quando ne abbiamo 100 mila Oh, fantastico Sì, sì, sì Allora, vediamo Oh, mio Abbiamo visto Arrende Come si arrende? Ups Mi dispiace Mi dispiace Non penso abbia problema Chi è il prossimo? Eh, eh Perché non va? Perché tolgo il mouse Ah Bella giocata Brawl Ci pensi, Brawl? Riesa No, iniziano a scazzottarsi tutti come Ne rimarrà soltanto uno Eh, ci pensi di rimanere tra i miei Che rende Dai, hai perso Pesca No, potrebbe No, non può fare più niente Bro l'avrebbe già giocato Perché non l'avrebbe perso Colpo di scudo E riaprirebbe la partita Cos'è che sei dicendo? Colpo di scudo I turbini prima Beh Ha perso Che cazzo Quanti sono? 3 7 11 Ha perso 8 19 Ha perso E 2 Ha perso 2 3 2 2 3 2 3 Ah dai, oh Stanno tanto s- 5 3 4 Ma perchè cosa succede? Perchè si illumina anche se sta al 60? Proprio perchè sta al 60 si lu... Siamo ancora oltre... Cioè si, ogni volta che vinci Si vede con la striscia ho sbloccato tutto facciamo quel Malfurian è stato un grande amore questo gioco non a prima vista perchè il tuo amore a prima vista è cacciato esattamente solo che con il nerf degli unleash dei segugi si chi sarà l'originale di un tempesta spade danzanti comunque ci sta portando bene quindi io lo terrei l'ira silvano la devo la devo giocata contro malvore cavalcarota un po' un po' una cacca mai come quanto contro il mago non evocare non fare nulla passa la luce mi protegge la ma è che ha evocato e che cosa ha evocato porca miseria cazzo togliere lo scudo si togliere lo scudo attenzione token druid il combo druid il combo druid ma cosa è arena cosa ci pensi uno si fa un deck del genio in arena c'è devastato l'amore ma abbiamo pescato a frente prima sul serio non l'ho visto solo per giocare si fa delle nozze non l'ha più 4 attacco al tuo personaggio per questo turno cosa ha più 4 attacco al tuo era per questo turno io io chiamo le carte si vabbè morse ora gioco la provocazione dove devo colpire eccolo eh è scemo adesso pesca si ma fin fin di pescare ma si metteva a bucazio è vero che se le sprecate fessi ecco perché le posso non posso si dici buono si è fatto bene anche se al prossimo turno potevi fare avventurare un lupetto però si ma no 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 sono d'accordo era un'opzione stavo solo dicendo che era un'opzione non sfidare Tusk solo una volta qualcuno ha sfidato Tusk ed è sopravvissuto ma questa volta insomma un combo oh l'ho detto che è un token cazzo l'ho detto questa è amare metti lui metti lui metti il cavalcalupi e schiantati si si schiantare cosa oh il cavalcalupi va a 4 cavalcalupi va a 4 ok solo che fammi pensare rimari senza senza e cos'altro vuoi fare scusa vuoi mettere il provocazione ma è cazzo io giocare il provocazione dove devo colpire si dove devo colpire dopo un'attenta riflessione di giocare la provocazione oooohh 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 fa il twitter oooohh oooohh fa il twitter oooohh si schianta ok oooohh 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 cosa guardi contro il druido è davvero forte cioè lui arriva e ti domanda cosa guardi cazzo eh non venire se non vuoi che ti guardo non uscire di casa ti devo dire guarda che roccia dura guarda che roccia dura io ce l'ho dorato è la prima carta che si ha se liberano i 50 con lo stregone attenzione buona buona non fa nulla fantastico buona oooohh lui è il 5 si lui è il 5 lui è il 5 il 5 il 5 il 5 il 5 si il 5 oh calma no il 5 io non voglio buttare metti 3 ma metti il 5 come tu l'ammazza metti il 5 ascolta metti qualcuno di puttana si metti il 5 vabbè si è fissato guarda la partita è sicuramente svolta a nostro favore in un turno che ha saltato in cui non ha giocato nulla pure questa gioca moh trasforma tutti i servitori in traffico dai ah ah pazienza che spazzata ci sta è vero che sono due due cagate non sono quello stesso abbiamo gli altri spazzati abbiamo uno lui possiamo anche evocare il trend potere eroe possiamo anche evocare il trend lui schianto potere eroe e basta e basta e basta allora è meglio spazzata solo che il cavalcalupi se ne va dire fa niente ma perde comunque a 6 danni se lo vuole uccidere capito? perchè 3 danni adesso e 3 danni dopo si è nella casa per caso che ora che se non c'è no non evocare il calco vediamo di qua va bene siccome abbiamo fatto la dimozione in mano ancora se dopo probabilmente giocheremo il trend possiamo dopo giocare invece trend è provocazione cosa dice quando attacchi? non lo sentivo? vabbè muo li sentiamo ma lo ricordo muo li sentiamo? l'ho sentito un centinaio di volte e non te lo ricordi non te lo ricordi 19,17 carte secondo me si arrende uuuu ha fatto una stronzata assurda sono già 10,12 abbiamo vinto no abbiamo vinto no no ok adesso non abbiamo vinto più a meno che non ci schiava ok quanto sono? 10,13 abbiamo vinto 10 g bella giocata bella giocata cioè proprio ci pensa pure bella giocata questa arena ad andare male? no 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 bella giocata cioè alla fine si perde si perde e si vince non sta andando ancora bene perché parlare di bien si parla quando si arriva già sulle 6-7 vittorie si si sono andato ora si non arriva tranquilli è già fa caldo abbiamo tipo 35 gradi che giornata che giornata malforian contro gina l'hai voluto tu devo proclare la natura mago innervate metalupo cambierei il druido cambierei anche il metalupo lo teniamo tenere innervate nella startend la mano iniziale è spettacolare anche se qui non ci serve la granche sperando non evochi board pulita becchino questa carta è davvero davvero OP allora sono appena tornato sono andato a prendere l'acqua grazie nientissimo ha messo il becchino quanto gli sarà utile in un deck in arena lo scopriremo a momenti io giocheri metalupo sperando che non ci potessi definire difficile potrebbe ucciderlo col potere esattamente detonazione di fuoco e si schianta ma non penso ecco se la potenza attacca si no male attenzione capovolta la situazione cosa è successo? questo subacchino un danno innervate potere e il lupo come l'aveva ucciso con potenziandosi ho giocato il razziatore ahia che pezzo di merda fammi pensare oh scrivi più tardi che sta l'inter non posso ecco ho dato un'informazione ulanghe interista che schifo adesso la gente chiuderà il video perché si è interista ognuno rispetto per allora non è non è c'è il potere di c'è l'inter si esce più tardi dobbiamo scoprire il segreto concentrati allora non è ne quello che dà autoarmatura ne vaporizzazione che uccide sarà all ice block o sarà il duplicate si no ci potrebbe essere anche l'image il duplicate oppure non abbiamo ancora giocato magia una delle due della magia alla fine Elena hai ragione un sacco di segreti però secondo me non sono una persona mattiniera non sono una persona mattiniera ma se ci ferma spazzate sai contro incantissimo io giocarei lui proprio per vedere se è lui ok alla fine non cambia niente ma abbiamo spazzate in mano solo che poi ti ammazzare le cavalcalope con le perché non mi piace perché hai fatto una strunzata o ammazzavi tutti o arrasciavi con tutto cioè non mi piaciuta proprio questa giocata Marco cioè sai cosa stavo pensando praticamente potevi usare che fare che fare spazzare purtroppo non volevo dargli nulla allora senza pensarci ho detto mi gioco cavalcalope intanto ha uno di vita lo ammazzo col hero power eccolo ok adesso ammazziamo tutto con spazzate ci sta sì questo diventa pericoloso può diventare perché peccato non possiamo giocare l'avventuriero nel frattempo la partita è apertissima sì è totalmente even al momento differenza di altre partite mi sono chiuse molto prima allora lui è più carte però anche se noi abbiamo più vita oggi è l'ultimo giorno per per salire il rango sì oggi finiva la stagione finisce anche l'opportunità del torneo no il blizzcon il blizzcon sì il torneo quello più importante offerto da blizz col monte premi finale abnorme sì ci saranno giocatori da tutto il mondo migliori 16 per ogni regione verso nordania per ogni nazione quella americana e quella europea e quella asiatica quindi per regione interna sì sì ci ha messo l'ufficiale d'argento e ha attaccato io gioco così per il ragazzo cosa faccio sì sono d'accordo scendiamo un studio di vino se continua a lasciare abbiamo spazzata se no se si schianta abbiamo il trent anche se potrebbe avere pecora in mano questo è fastidiosissimo contro il mago mamma mia quanto è fastidioso contro il mago però gli è andata bene gli è andata molto bene in serio niente possibile avventuriero avventuriero swipe non mi dite c'è un'altra magia da un che cazzo dammi una mi chiusa dai man cucina di me la probabilità che gli andasse bene è la seconda swipe sì un'altra su 19 carte la possibilità che gli andavano bene erano del 50% come se avesse tirato una cazza di moneta anzi no forse erano anzi 50% va bene erano due cose da colpire che sta pensando tenso oh svancia di strana molto forte è molto forte oddio no il segreto no il segreto c'è in cura cioè io stavo pensando io ti stavo io ti stavo dicendo io ti stavo dicendo evoca senza problemi il 30 solo che noi possiamo potenziarlo hai rotti il cazzo lui o lui ok è andata bene cioè se colpiva il il lanciato dei contelli era meglio ma che cazzo hai visto hai visto che cazzo è successo questa è sfiga si si ma cazzo aveva aveva 4 bersagli sbagliato perché avrei dovuto mettere lui così lo costringevo a usare due di mano per il potere eroe che fare che fare avrebbe avuto capitato avrebbe avuto l'incertezza la decisione ma l'avrebbe usato sempre sulla ventodiera ma l'avrebbe usato sempre sulla ventodiera però dai come potevi sapere che sarebbe successo una cosa del genere cioè alla fine non è stato l'agora che fare che fare comunque questo è sfiga siamo comunque a cavallo questo è bello forte dovrebbe avere sfiga ma lo faccio apparire lo faccio apparire in alto sinistra sfiga fireball la luce mi protegge ecco ok ecco lo ammazza easy eh ma ti rendi conto ti rendi conto che è un mostro sperando che colpisse l'avventuriero probabilmente quante pezzi di me esattamente metamorfos avrebbe dovuto giocare prima metamorfos poi avrebbe dovuto giocare a tizio vabbè vabbè non sa giocare perché? ecco il cazzo la finita oh si però ce l'ho fatta forse si ma non l'avete accato ce l'ho fatta oh grazie oh il mitico mo ce lo ce lo ce lo ce lo teniamo per l'avventuriero aspetta scusa aspetta ho giocato già una metamorfo si aspetta giocare wisp che se il tizio colpisce lui poi puoi usare il potere e uccidere come no sto dicendo stronzato però dai evocalo comunque il wisp evocalo certo dopo no adesso attenzione guarda dove il rumore ha oh mio dio si cazzo oh yes e uccidi no uccidi uccidi lui uccidi 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 a posto a posto please 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 non avere l'altra peccola no no si vabbè ma è pieno di magie rompi i coglioni quelle se le sta tenendo per finirmi tipo fireball o frost potrebbe avere anche pirosfera se le è andata bene guarda sei pronto per questo sei pronto per questo si sono pronto per questo e basta carta fastidiosa ho già fatto già questo è il terzo si il terzo è morto già in casa posso ammazzarglielo però che può essere vaporizzazione potrebbe essere qualsiasi cosa vediamo ahia oh hai rotto il cazzo allora e mo non possiamo evocare siamo venuti a me sì sì attacca prima di e no il fatto è che prima qui dovremmo evocare marco su devi sperare di devi sperare di pescare qualcosa di merdoso potrebbe anche essere quella delle magie comunque o duplicazione ho sentito che hai un problema ahia hai evocato pure una bellissima carta in arena profissima 10 1 ecco ci toglie pure il nostro wisp sto per mettere la carta che in mano no secondo me non può scuola se mi ha piro piro sfera si pari corvolesti comunque è il cazzo il sicario è fortissimo mi ha preso il controllo della situazione perché hai avuto paura del segreto secondo me avresti dovuto rischiare aver rischiato di aver evocato il città il fango eccolo l'ho detto ce l'aveva sto pensando attenzione spalla evoca evoca si dai vaffanculo o hai duplicazione o hai duplicazione o uno delle magie anche se saremmo stati a cavallo adesso o hai duplicazione o uno delle magie ma ecco quindi se è uno delle magie è easy ma può essere benissimo ah può essere anche la finale quella che gli salva il culo vabbè ma quella la cioè la escudo a priori perché alla fine quella è forse si può sapere solo alla fine dovevo ammazzare il tizio potevi certo cazzo è certo che avessi così ci rimaneva attenzione seguiamo il match come va a finire comunque se ammazzavi il tipo della duplicazione 4 cazzo 2 che stiamo spazzata oh cazzo ma non li toglierei nessuno poi la verità è il mio scuro perché ma devo toglierlo ecco la duplicazione te l'ho detto perlomeno si riduplica via quel figlio di puttana 7 e 2 7 e 2 oh no ho ragione uccidi il piccoletto uccidi il piccoletto sennò li fai pescare ah no ma poi pesca comunque attacca diretto attacca diretto attacca diretto se gli attacco lui questo comunque non può ammazzarmelo si ma pesca attacca diretto no vabbè che hai ragione in mano c'ha due due merdine due uno due ok e mo però pescato due carte partita serie aperta puntano la miseria sta con otto meno male almeno noi in deck abbiamo carte alte quindi in questi momenti dovremmo essere avvantaggiati con poche carte ce la dovremmo studiero al mio piatto ah dai studi un giorno sarò proprio come te mo evoca pure la piccola gioco il mondo mamma mia mamma mia però toglierò eccessamente no se peschiamo allora per vincere possiamo due un altro nano un altro nano per vincere possiamo pescare un altro nano qualsiasi cosa anche spazzata nutrizione please please spazzata spazzata e dai però spazzata non ci è arrivata vabbè dai comunque nella cacca se non metto in provocazione in due turni è morto anche se ci ammazza tutti se poi peschiamo spazzata una cosa che toglie uno cazzo bene ok ha fatto ciò che doveva fare però rimane comunque a uno di vita e non abbiamo un caccio in cima nemmeno un'altra piccoletta cazzo inizia cazzo inizia una piccoletta ecco la qua sta rascendo bene bene oh mio dio cazzo vabbè io ho gretizia e potere diretto 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 non ti togliere danno il turno dopo abbiamo vinto il turno dopo abbiamo vinto diretto diretto abbiamo vinto che cazzo devi pescare dai alla morte affanculo bué bué buca la morte no se è buca la morte io mi ne faccio si stavamo ammazzando si kill si bella gioca bella gioca va bene allora continueremo prossimamente intanto lo carico il suo video ok perché non è fatto male alla prossima siamo a 5 noi vi salutiamo tutti siamo a 5 prossimamente massimo domani dopo domani carichiamo l'altra parte qui da ulang e tjson è tutto salve salve